Il nuovo Abyss sta mietendo tantissime vittime, hanno esagerato, hanno trovato finalmente un punto di balance per chi voleva una sfida maggiore o semplicemente hanno fatto una roba totalmente fuori dagli schemi per chi magari non è uno spendacione? Ne parliamo dopo la transizione. Ciao ragazzi, io sono Zerganti e benvenuti in questo nuovo video. Mettiamo le mani non avanti, avantissime prima di iniziare a parlare di questo Abyss perché qua abbiamo fatto un po' di caos in live. Allora innanzitutto mi scuso se ho tiltato, so che alcuni di voi mi hanno visto per la prima volta in una forma un po' più licantropesca perché avevo i miei affari, ero nervoso, non mi veniva, questo Abyss non mi veniva, quindi è la verità, non riuscivo a farlo con la solita scioltezza che avevo normalmente e vi assicuro che farlo in due step con un team solo per la stanza 1 e fare un altro team per la stanza 2 e la stanza 3 è una di quelle robe che preferirei veramente mangiarmi un, non lo so, veramente un tronco così di strachino in cui sono anche intollerante e morire male e essere accolto nel meraviglioso mondo di Warhammer 40k in mezzo a cose putrescenti. Vabbè, a parte questa cavolata che ho appena detto. Vabbè, mi scusavo se ho esagerato, chiaramente poi lì è stato anche terreno fertile per altre discussioni, ma evito da questo punto di vista. Non è un Abyss facile, non è assolutamente un Abyss facile. A mio parere, a mio giudizio, questo giro, l'Abyss 12, che comunque abbiamo tristellato l'abbiamo tristellato poi nella seconda parte di live quando era un po' più calmo ed era un pochettino più in una forma normale vi assicuro che non è assolutamente semplice. Specialmente per chi è free to play o per chi ha delle risorse limitate seppur poi, vediamo tra poco, si può ormai affrontare in vari aspetti. Diciamo che ho trovato, guardando anche un po' in giro altri come l'hanno completato ho notato che abbiamo più o meno quasi tutti completato le sfide in maniera differente con team del tutto non omologati e questo tra virgolette mi fa ben sperare perché mi fa pensare a ok, non siamo più nei vecchi abissi, quindi gli ultimi due che veramente ragazzi bastava avere Nilu e si faceva, ovviamente parlo di gente che ha comunque un account di un determinato tipo mentre in questo la questione non era così fattibile. Perché? Perché andiamo a analizzare un attimino come è suddiviso, poi vi faccio vedere il gameplay come l'abbiamo fatto ma andiamo a vedere un attimino come hanno suddiviso a questo giro, mioio, il contenuto endgame, no? Allora, l'Abisso 12 è suddiviso con i malefiori Crio e il malefiori Piro che sono normalmente 3 e 3 e che saltellano fuori dal terreno in maniera, tra virgolette, randomica anche se tendono ad arrivare verso di te. A volte si bloccano, caricano e sei tu che devi andare a inseguire molti lo hanno fatto senza raggrupparli, io l'ho dovuto fare raggruppandoli quindi 20 per me in questo momento è diventato super importante con, uniti dopo, dei costrutti primordiali, 3 a 3 che anche essi non sono super simpatici perché si muovono un pochettino ma che tendono, se non li nuocate a una velocità abbastanza elevata a scomparire, a diventare invisibili, a non avere una riduzione dei danni fino a che non gli rompete i costrutti più piccoli quindi, al di là del fatto che è una stanza che se volete tristellare dovete andare veloce tenere insieme i nemici non è facile ma è quasi obbligatorio per concludere la stanza a un tempo decente non contenti, la seconda parte ha oltre che il mago dell'idro e il mago del Crio e unire idro e Crio è una mossa abbastanza furba perché di fatto ti pseudo obbliga a utilizzare fuoco tendenzialmente si va più o meno su quello perché funziona abbastanza bene su entrambi gli scudi poi vedremo anche sugli apostoli e qua Kazuha io l'ho dovuto assolutamente usare con tutto me stesso perché mi permetteva, avendo 20 nel primo team di essere più efficace grazie che alla Nemo, di abbassare gli scudi per la prima volta nella mia vita, qua lo dico e qua lo nego ho veramente pensato dopo 30, 35 try di mettere Xiao in questo team qua nonostante sappiate che io non sono un amante di Xiao sappiate che non mi piace il gameplay non il personaggio, il gameplay non mi fa impazzire a sto giro io ho veramente pensato di mettere dentro un Kazuha Xiao ci avevo veramente veramente pensato poi ce l'abbiamo fatta invece con un rational che comunque è sempre rotto però ecco qua è stato molto complicato soprattutto perché poi arrivano gli apostoli dell'abisso sia della cascata sia del torrente che se fossero rimasti solo idro si va con il nostro dendro e via e si risolve la situazione ma ci sono anche quelli di gelo oltretutto con un'altissima mobilità con il tempo che tu comunque hai perso nella prima sala o che comunque hai avuto, insomma, ci vuole un po' riuscire a farli entro per le tre stelle questa stanza è davvero, secondo me, complicata ripeto, complicata per me che magari non utilizzo team come un Ganyu Reverse Melt magari che non utilizzo, non ho voluto utilizzare alcune risorse o alcune cose come per Divi Xiao o altri ma ho preferito un rational da una parte e dall'altra parte ho utilizzato un team con Kino Saino per gli amici perché mi sembrava molto utile, molto forte in Hyper Bloom o comunque in Aggravate sul primo team una volta superata questa stanza dopo non vi dico che va in discesa ma la situazione sicuramente migliora specialmente per quanto riguarda la sala 2 che è un po' quella un pochettino più semplice per quanto mi riguarda per poi arrivare alla sala 3 nella sala 2 qui il discorso è sempre lo stesso se voi avete fatto nel team 1 un team che si basa su fioritura e per fioritura farete magari un pochettino più di fatica perché avete contro un mostro che si magna al dendro però comunque in qualche modo si può fare il team 2 ecco io già con il rational ce la facevo ma con un pochettino più di difficoltà comunque qua semplicemente ho invertito poi una certa sono rientrato bello contento ho detto vabbè sai che c'è sala 1 me la faccio più con calma e sala 2 invece mi imposto i team per sala 2 e sala 3 sala 2 che cosa avevo messo? nel team 1 dove ho messo un rational classico che secondo me è veramente troppo forte e che mi piace c'è anche da dire quello con una Sha Ling una Raiden un Xin Chu e un Bennett e nella seconda parte invece ho messo quello che secondo me è il team che mi piace di più che io mi diverto di più e che uso praticamente quasi sempre io sono una di quelle persone molto metodiche che cerca di usarsi sempre lo stesso team anche per un altro motivo che questo spesso voi sottovalutate e che spesso vi permette anche di giudicare quello che è un po' il mio operato e come io giochi il fatto che io spesso utilizzi sempre gli stessi personaggi da una parte è sicuramente una comfort zone di un piacere mio di una cosa che piace a me dall'altra è perché sono personaggi che ho farmato il fatto di avere questa è una cosa che molti equivocano lo capisco ma molti equivocano questa cosa il fatto di avere tutti i personaggi non vuol dire che ho tutti i personaggi buildati non vuol dire che ho tutti i personaggi che performano e non vuol dire che ho tutti i personaggi che funzionano bene vedermi le critiche di ce li hai tutti non riesci a fare l'abisso lascia un po' il tempo che trova perché per quello che è l'avanzamento anche spesso nel mio canale quindi il portarvi contenuto e farvi vedere il giorno 1 il personaggio se il personaggio per esempio Kirara in questo momento si è a 70 buildata e mi sali da parte non credo che la giocherò mai perché non mi piace come gameplay quindi il fatto che io ce l'abbia e magari tu mi dica usa Kirara perché è molto forte e già io ti posso dire no perché non è buildata e non lo sarà mai perché non ce la faccio come tempo come risorse come dispegno soprattutto economico non vi aspettate che io abbia i personaggi C8 e ragazzi io la maggior parte dei miei personaggi 5 stelle sono C0 li pullo bon finita lì si va si fa la build se ne parla si gioca quindi c'è anche questo aspetto e comunque team 2 vi dicevo che invece ho fatto una roba un pochettino più così che è Ayato Ayato Utao per avere Ayato Utao Yelan e poi il nostro Zhongli Ayato lo metti lì come doppio idro gli fai fare anche un po' di cambio quando c'è Utao però alla fine in questo modo questi due io ho veramente spaccati per arrivare poi alla sala 3 dove la sala 3 allora è molto meglio rispetto secondo me a livello concettuale della questione del vermone con 2 milioni di vita perché concettualmente il vermone con 2 milioni di vita all'epoca era un damage check che un damage check che tu praticamente se non c'avevi il danno non lo tiravi giù e non era assolutamente in alcun tipo di sforzo la parte di mio io era semplicemente boh ti metto il mega boss con 3 milioni di vita se non lo tiravi giù a fare i tuoi quindi non c'era di fatto tanta interattività da parte del giocatore qua invece hanno deciso di fare il rilancio dei due probabilmente mostri più odiati di tutto l'abisso odiati non tanto perché sono brutti o perché sono troppo forti ma perché purtroppo hanno una questione di scrittura delle collisioni e delle rigid body per chi ha programmato un minimo dovrebbe aver capito quello che intendo l'ho detto un po' in parole mie ma ci siamo capiti che è devastante per il giocatore che spesso si ritrova rimbalzato e sbalzato qua e là perché ha delle collisioni particolari e i tempi di recupero e i tempi di caduta sono dilatati rispetto a quello che dovrebbe essere normalmente quindi è un impedimento appunto di gameplay per secondo me appunto una scrittura non proprio corretta o comunque non polished come si viene a dire ottimizzata dei nemici vabbè normalmente ce ne stanno due qua ce ne stanno quattro quindi è proprio il delirio il delirio che però come abbiamo visto in ultimi abissi è tanto tempo sulla prima stanza e poi in un minuto sulla seconda stanza se hai fatto il tema modo lo tiri giù credo che nel mio video ho perso del tempo contro il battezzante maligno che è il nuovo boss perché mi aspettavo iniziasse con i tre scudi non l'ha fatto quindi tipo 5-6 secondi io persi guardandolo aspettando che lo facesse e ce l'ho fatta lo stesso per mezzo secondo quindi comunque ero leggermente sopra e il primo team ragazzi con il rational lo si fa cioè io l'ho fatto pregando sempre che si radunino siano vicino a te che non partano in combo e non ti sbattano contro il muro con una telecamera che tu non riesci a vederli insomma è complicato è molto complicato sarei un infame a dirvi che non è complicato è complicato poi sicuramente molti di voi sono molto più bravi di me a giocare a questo gioco e hanno molto di più le manine e quindi per voi magari sarà più semplice ci sarà sempre quello che ha il team diverso dal tuo che lo spacca più forte bravi tutti per me è stato molto complicato ma penso anche per la maggior parte delle persone la seconda metà no perché comunque anche se lui aveva i tre elementi ghiaccio, acqua e fuoco lo scudo con il team che avevo fatto riusciva a tirarglielo giù bene e nel momento in cui era con le debolezze basse boom apri tutto sbarmella tutto duccio vai con utao e effettivamente l'ho aperto come le pigne non è un abisso molto friendly sul free to play che però credo che abbia soddisfatto una piccola parte di utenza non credo una grande parte non lo so però una presupposizione mia che invece chiedeva a gran voce più difficoltà in abisso e è una più difficoltà che trovo molto più logica come vi dicevo rispetto semplicemente all'aumento di vita dei boss che credo abbia un suo perché e la trovo valida cioè preferisco una difficoltà aumentata di questo tipo che però che però non vada a introdurre e non vada forse a striggere un pochettino l'occhio verso delle meccaniche di marketing che secondo me che io lo sapete sono un cospirazionista sono uno che vede le cose dall'altra parte della staccionata sembra davvero far pensare a guardate che se ci giocate Yumi e Iai funziona e non c'è nulla di male in tutto ciò perché d'altronde però guardandolo bene se ci giocate Yumi e Iai vedete che la fate un po' più semplice soprattutto se ci giocherete Kazua vedrete che lo farete semplice diciamo che la maggior parte delle persone che ho sentito comunque Kazua ha cercato di inserirlo o comunque Unanemo ha cercato di inserirlo io ho giocato sia 20 che Kazua all'altra parte quindi comunque da una parte bene che aumenta che sia un tentativo un modo anche per incentivare chi vuole fare il contenuto finale che non è obbligatorio siamo detti anche per il tipo di ricompensa che ci dà non è niente di incredibile a pullare determinati personaggi che è tutto nel loro nel loro sacrosanto diritto ultima parentesi forse la più spinosa di tutto il video di cui però volevo parlarvi molti di noi e qua c'è stata quella purtroppo lite e situazione un po' in live sulla questione dell'input lag e della ottimizzazione del gioco che è andata a farsi benedire in alcuni aspetti ormai da un po' di versioni non c'è nulla di ufficiale non c'è scritto da nessuna parte mi scuso principalmente con Bocalide se sono stato un pochettino aggressivo con lei però nel senso io ho già spiegato i motivi per il quale mi aveva fatto innervosire in cui non c'è da nessuna parte scritto che effettivamente ci siano stati dei cambiamenti a livello di gameplay ma tantissimi giocatori ma anche su reddit lo trovate ma tantissimi giocatori ma anche altri content creator hanno notato io per primi che dalla 3.1 dice cala dice 3.1 io dico secondo me 3.3 ma insomma ognuno ha le sue sensazioni ci sono stati dei cambiamenti in peggio su delle ottimizzazioni del combattimento molte volte cambiamo personaggio e non ci cambia subito il personaggio ma abbiamo un input lag di almeno un secondo un secondo e mezzo molte volte subito dopo il cambio personaggio utilizziamo un'abilità e quest'ultima prima di partire spesso dobbiamo partire in anticipo col tasto premuto per far sì che prenda perché se no l'input immediato non arriva una determinata memoria meccanica che avevamo nel giocare soprattutto a chi gioca a day one applicata adesso non ha più gli stessi effetti molte volte anzi dobbiamo rallentare a volte l'insegnamento di input per far sì che vengano presi correttamente tra cui anche i tempi di caduta i tempi di ribalzo ma questo ve l'ho già detto di prima rispetto alla conformità e alla forma dei vari mostri può darsi che voi non siate d'accordo può darsi che a voi non l'abbiate notato magari su playstation è diverso magari su mobile è diverso magari su pc noi che giochiamo su pc è ancora diverso personalmente è una cosa che ho notato e che spero spero dalle prossime versioni venga corretta se esiste veramente se non è solo nella mia nella nostra testa e che venga un po' migliorata in modo tale da avere un'esperienza migliore e così da ora in poi non mi sentirete più lamentare ma sto input lag mi dispiace ma purtroppo mi dà fastidio quando mi rendo conto che quello che sto facendo è lo stesso cosa di un anno fa e l'output è differente rispetto a quello che è a schermo ripeto potrebbe essere assolutamente un'impressione solo mia sono io a sbagliare porto la croce scaglio la prima pietra però magari anche alcuni di voi sotto questo video potrebbero esprimere la loro esperienza e dire effettivamente Zerga me ne sono reso conto me ne sono reso conto anch'io oppure no assolutamente no detto questo io vi ringrazio per la vostra cortese attenzione vi invito a iscrivervi se non avete ancora fatto lasciarmi un like e seguirmi anche su tutti i miei altri social vi raccomando perché stasettimana si va a pullare con la bestia di Silverwolf su Onkai Star Rail Diablo stiamo ormai a livello 50 stiamo andando avanti vi ringrazio per essere sempre presenti all'interno delle mie live abbiamo fatto anche la piccola Giudina quindi possiamo giocare insieme noi ci vediamo al prossimo video United State of Zerga ciao belli